Ritrovati in nuovo appuntamento con l'informazione di Telestense, diverse le notizie parleremo, poi torneremo a parlare dei nuovi cassonetti dell'indifferenziata con anche la nuova carta Smeraldo, vedremo insomma quali sono le novità e poi ancora politica, Luigi Marattin, l'onorevole Marattin lascia ufficialmente Italia Viva ed entra nel gruppo misto alla Camera, poi parleremo delle elezioni della provincia di Ferrara perché c'è un unico candidato alla presidenza, si tratta di Daniele Garuti, attuale sindaco di Poggio Renatico e poi parleremo ancora della fiera di Santa Croce a Codigoro che ancora praticamente siamo addirittura d'arrivo e la Spalla, Spalla che ha sfiorato la rimonta in casa contro la Lucchese ma purtroppo è stata sconfitta per 3 a 2, naturalmente sentiremo il commento di Alessandro Sovrani. Però apriamo con la politica e con le elezioni per la provincia di Ferrara che si terranno domenica 29 settembre, sono state presentate due liste per il Consiglio provinciale ma c'è un unico candidato a presidente, come dicevamo si tratta del sindaco di Poggio Renatico Daniele Garuti che succederà quindi a Gianni Michele Padovani. Vediamo. Un unico candidato per la presidenza e due liste di nomi per i 12 seggi del Consiglio provinciale di Ferrara. A mezzogiorno di lunedì 9 settembre, termine ultimo per la presentazione, è stato questo l'esito finale delle candidature presentate in Castello Estense per il rinnovo degli organi di presidente e consiglio provinciale in vista delle prossime elezioni che si terranno domenica 29 settembre. Daniele Garuti, sindaco di Poggio Renatico, è dunque l'unico candidato a succedere a Gianni Michele Padovani ed è stato presentato con la lista Terra Estensi. Con le stesse insegne è stato ufficializzato anche l'elenco dei 12 candidati al Consiglio provinciale. Nessun candidato alla presidenza invece per la seconda lista che si chiama Ferrara Insieme, con anch'essa i 12 nominativi per il Consiglio. La legge che ha riformato le province nel 2014 ha stabilito infatti che i candidati alla carica di presidente possono essere solo i sindaci, mentre anche i consiglieri comunali possono aspirare a far parte del Consiglio provinciale. Sindaci e consiglieri comunali possono invece votare per entrambi gli organi della provincia. Le prossime scadenze attendono al lavoro l'ufficio elettorale per la pubblicazione di liste candidati, cui seguirà un'ultima verifica del corpo elettorale, ovvero sindaci e consigliere dei 21 comuni della provincia di Ferrara fino al giorno delle elezioni del 29 settembre. L'onorevole Luigi Marattin ha lasciato ufficialmente Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi nel 2019 in cui lo aveva seguito insieme ad altri componenti del Partito Democratico. Marattin durante una conferenza stampa che si è tenuta alla Camera ha detto di non condividere la scelta del partito di aderire al cosiddetto campo largo, l'espressione con cui è stata definita la collaborazione tra i diversi partiti di centro-sinistra, tra cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Marattin, che ha lasciato il partito con altri quattro dirigenti locali, si iscriverà al gruppo misto della Camera. Torniamo a parlare della raccolta differenziata, in questo caso dei rifiuti indifferenziati, perché come vi avevamo già detto nei giorni scorsi arrivano i cassonetti di ultima generazione a Ferrara e c'è anche una nuova carta Smeraldo, ritorniamo a vedere come funziona e che cosa succederà. Questa è la nuova carta che sostituisce quella che andrà in pensione fra qualche settimana, le nuove tessere carta Smeraldo verranno spedite per posta a tutti i cittadini che hanno un contratto in comune di Ferrara, è molto semplice da utilizzare ed è contraddistinta da un bollino giallo con la scritta valida dal 2024. Si continuerà a utilizzare anche la scheda vecchia fin tanto che i cassonetti vecchio modello rimarranno sul territorio, man mano che i nuovi cassonetti verranno dislocati sul territorio si potrà utilizzare la nuova tessera. La nuova tessera che potrà essere utilizzata ovviamente anche per i conferimenti ai centri di raccolta, per i propri rifiuti ingombranti, quelli che non trovano posto nei normali cassonetti. Da un punto di vista anche estetico spicca che non è un contenitore di plastica. È un contenitore di metallo, certo il metallo è tutto riciclabile ma poi anche da vedere ci piace, poi è chiaro che ogni contenitore ha una sua vita utile, alla fine pensare anche al riutilizzo finale per noi è importante perché il ciclo deve chiudersi, deve chiudersi in maniera virtuosa. Aggiungerei solo un aspetto che per quanto riguarda la tarifazione corrispettiva, quindi l'utilizzo corretto dei servizi di igiene urbana, è importante sapere che già una quota a parte di conferimenti di indifferenziato sono già pagati in bolletta, quindi utilizziamoli, nel senso almeno 40 conferimenti per un'utenza con 3 abitanti o 24 comunque per un singolo abitante. Quindi utilizziamoli e facciamo in modo che gli abbandoni siano ridotti e siano anzi annullati perché oggettivamente per una città bella come Ferrara non è ammissibile. Sono più di 1200 i cassonetti nuovi che arriveranno in città però avete specificato che ci sono altri metodi per fare la raccolta. Certo, diciamo che la raccolta indifferenziata costituisce la frazione residuale, quindi ciò che rimane del rifiuto dopo che in modo adeguato abbiamo separato correttamente tutti i rifiuti che noi produciamo. Quindi la raccolta indifferenziata è l'ultima quota, l'ultima parte. Sul territorio non abbiamo solo come sistema di raccolta indifferenziata il cassonetto nuovo col cassetto ma abbiamo anche ovviamente altri tipi di contenitori relativamente al contesto urbanistico che ci troviamo di fronte, quindi nelle aree di Forese ad esempio dove ci sono delle case sparse abbiamo una raccolta porta a porta con la consegna di specifici contenitori da 40 litri di volumetria in centro storico e in un contesto urbanistico dove il transito dei mezzi non è consentito e mezzi di grande capacità ovviamente andiamo con servizi di prossimità con contenitori adeguati questo vale ad esempio per il centro storico, per tanti esercenti ma anche per tanti servizi industriali e commerciali del territorio che anche se non sono insediati in centro storico. Ora l'operazione della Guardia Costiera durante le ispezioni condotte il lunedì 9 settembre su sei moto pescherecci rientrati dopo aver pescato lungo la costa tra Goro, Porto Garibaldi, Ravenna e Cervia sono state riscontrate diverse irregolarità, i titolari di due coppie di pescherecci sono stati multati per l'uso di reti da traino con maglie troppo piccole mentre un altro peschereccio è stato sanzionato per aver pescato nella fascia protetta entro le 4 miglia della costa, il pesce sequestrato è stato destinato alla vendita all'asta e i proventi andranno allo Stato, sono stati anche confiscati attrezzi da pesca e le multe complessive ammontano a 6.000 euro. Ora cambiamo argomento e parliamo dell'informazione che l'ospedale Sant'Anna di Ferrara Cona dà ai futuri genitori alle future mamme e ai futuri papà, gli appuntamenti coinvolgono un team multidisciplinare di professionisti dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara formato da ginecologo, ostetrica, neonatologo e anestesista ce ne parla la dottoressa Morano, medico dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia del Sant'Anna ed è responsabile medico della sala parto, tema che lo ricordiamo sarà al centro della prossima puntata di Il Filo d'Arianna, sentiamo. Quanto oggi i futuri padri vivono questa consapevolezza, vivono il periodo della gravidanza con la mamma? Devo dire molto di più di prima e sono molto più coinvolti, la presenza è non solo in ambulatorio ma anche nel momento in cui bisogna affrontare, prepararsi al momento dell'arrivo del bambino. Noi abbiamo aperto alla popolazione un incontro che facciamo ogni martedì con le coppie di cui si è data sul sito dell'azienda, ampia diffusione sulle giornate, generalmente ogni fine, ogni martedì, l'ultimo martedì del mese abbiamo l'abitudine di incontrare la popolazione con un accesso diretto che è aperto anche in modalità webinar, oltre che in accesso diretto in aula con le modalità che sono ben spiegate sul nostro sito in cui la partecipazione dei padri è veramente molto sentita, con domande che possono essere anche molto semplici, perché anche il padre ha bisogno di abituarsi all'idea dell'allargamento della famiglia e della presenza del nuovo nato. Quindi qualunque domanda è ben accetta. Sono incontri in cui ovviamente c'è una presenza anche lì multidisciplinare, ci siamo noi come ginecologi, ci sono le ostetriche che ovviamente sono fondamentali in sala parto, noi siamo molto orgogliosi di avere un rapporto uno a uno tra l'ostetrica e la paziente, cosa che sicuramente favorisce sia il benessere della madre che quello che è l'evoluzione del travaglio, ma anche i neonatologi, gli anestesisti, perché è sempre più diffusa, così come dovrebbe essere, è l'offerta dell'analgesia in travaglio di parto e ci sono i genetisti a cui è possibile porre domande se per esempio la patologia genetica del feto è comunque stata compatibile con la prosecuzione della gravidanza, ma magari ci sono ancora delle questioni risolte, dei dubbi che la paziente può rivolgere al genetista, ci sono ovviamente i nostri neonatologi. Quindi è un momento in cui qualunque dubbio può essere dissipato, un momento che deve essere che la paziente sceglie ovviamente quando affrontarlo, ma che di solito avviene alla fine del percorso di preparazione alla nascita, che è seguito sul territorio e che è molto vicino al momento del travaglio e del parto. Cambiamo argomento, parliamo del paglio, piogge di vittoria per il movimento ferrarese della bandiera storica che all'attenzione ha ora svoltasi questo weekend ad Ascoli Piceno, è riuscito a scalare le classifiche della maggior parte delle categorie e dopo 12 anni ritorna a Ferrara grazie alla vittoria del Borgo San Luca, quindi un titolo italiano insomma della Federazione Italiana Sbandieratori. Podio nella categoria piccola squadra anche per la fondazione Palio rappresentata da Borgo San Giacomo che è riuscita a portare a casa il terzo posto, l'attenzione aurea e il campionato A1 per musici e sbandieratori che ha visto la partecipazione di 21 squadre provenienti da tutta Italia. Ora ci spostiamo a Codigoro perché prosegue sino al prossimo 10 settembre la fiera di Santa Croce. Oltre a musica e intrattenimento la località è anche animata da diverse esposizioni, tra le altre l'associazione Marinai d'Italia ospita l'ultima opera del modellista Franco Ragazzi, una nave in fase di completamento dopo quattro anni di lavori. Abbiamo con noi un amico ormai di Telestense, persone che conosciamo molto bene, il Cavaliere Franco Ragazzi, presente anche qui a Codigoro, tra l'altro con una bella opera in fase di realizzazione. Allora, Cavaliere, ci spieghi che cosa sta facendo. Era un pezzettino che volevo portarla fuori anche per farla vedere in costruzione. Visto che siamo molto vicino con i marinai e a Codigoro, allora mi hanno insistito per poter farla vedere anche qui a Codigoro. Ci sarà ancora altri due o tre mesi forse da finire perché è più bello ancora da arrivare. Comunque sono soddisfatto perché un cappoloro così non si vede in nessun posto. Quindi insomma, continuo l'attività, non ci si frema mai, vedo sempre operativo. Sempre, anzi adesso voglio finire questo qui perché c'è già in visto un'altra cosa. E intanto voglio anche esprimere che c'è un bel gruppo di Braccavela che è il 28-29, c'è il campionato italiano nel laghetto al parco urbano. Ecco, ma giusto per capire, quello che vediamo fino ad oggi, quanto c'è voluto di tempo? Quattro anni. Quattro anni? Sì. E per finire quindi quanto ci vorrà ancora? Ancora altri cinque o sei mesi, perché manca l'albero, manca la righe per andare sopra, manca l'albero, anzi voglio mettere il palio sopra, tutti i vestiti. Ma questo è tutto solo lei o c'è qualcuno che ha dato una mano? No, nessuno. Da solo? Solo perché si potrebbe anche, anzi di più, sono andato in una scuola, zero. Non sono riuscito a mettere avanti due o tre ragazzi. E purtroppo adesso devono venire un paio di ragazzi a casa mia per dare un po' lo spunto, perché io ho la fase di loro, no? Parto con una specie di una pestellina, dopo ci fanno delle fusioni, eccetera, eccetera. E lì è bello da far vedere la gente, però adesso qui è abbastanza delizioso. No, però le chiedo una cosa, quando uno lavora da solo, sarà più faticoso, però almeno lei sa quello che deve fare e non c'è nessuno che può fare un errore. No, perché se capita che non riesco, dopo di notte, a mezzo a mezzo a mezzo, salta fuori al prodotto. Ecco, per cui... Ora parliamo della SPAL, la sconfitta in casa contro la Lucchese. La SPAL che comunque ha sfiorato la rimonta, ma insomma non ce l'ha fatta. Sentiamo allora Alessandro Sovrani nel dopo partita. Non è ancora il caso di parlare di crisi, ma di attente rinfluzioni pensiamo sia il momento. Una SPAL che dopo tre partite ha conquistato la miseria di un punto. Calalco in rimonta dopo essersi trovata sotto due gol. Si può affermare che stia attraversando un momento particolarmente delicato. Calalco, la squadra di Dossena, ha subito in queste tre partite la bellezza di Otto Retti. Certamente non si tratta di un caso, una squadra eccessivamente, esageratamente sbilanciata in avanti che oggi si è trovata addirittura costretta a cercare di rimontare tre reti al cospetto di una Lucchese che sino alla partita odierna mai aveva vinto, ma soprattutto mai era riuscita a superare i portieri avversari. Dossena oggi ha ritenuto opportuno schierare Radrezza in posizione molto avanzata a supporto di Antenucci. Il capitano ha disputato una partita magistrale e due reti e un paio di conclusioni che hanno portato la SPAL ad un passo dal completare la rimonta. Peccato non si è riuscito a festeggiare completamente come avrebbe voluto i suoi 40 anni compiuti proprio oggi. Dicevamo una SPAL esageratamente offensiva, una SPAL che oggi ha registrato l'esordio di tre giocatori nuovi nel reparto retrato per quanto riguarda la fase iniziale. Infatti a parte Arena oggi ha giocato Calapai sulla destra, Mignanelli sulla sinistra che non è dispiaciuto e Sottini in posizione centrale. Poi praticamente in mediana Nador e Zammarini quindi in precedenza in posizione più avanzata rispetto alle abitudini Radrezza sulla stessa linea di Rao e Dorazio alle spalle di Antenucci. Questa situazione ha consentito alla Lucchese di sfruttare nelle migliori dei modi una vistosa supremazia numerica centrocampo con il 3-5-2 adottato da Gorgone. Così i giocatori della formazione ospite si infilavano sugli esterni in particolar modo con Quirini e Antoni alle spalle della coppia d'attacco Saporiti-Costantino ma anche centralmente in un centrocampo guidato nelle migliori dei modi da Vlebeck ma anche con la qualità di Catanese, il giocatore da pochi giorni arrivato in Toscana. Così dopo un paio di tentativi iniziali della Spal già all'ottavo la Lucchese passava in vantaggio. Sulla sinistra trovava spazio per Andarsen Antoni, crosse sul primo palo Costantino che usciva ad anticipare gli impacciati Arena e Sottini. Spal che pagava psicologicamente questa situazione e al diciannovesimo arrivava il raddoppio della Lucchese, la palla completamente scoperta, Saporiti si infilava centralmente in una situazione che si è ripetuta più volte, serviva Quirini che poteva aggiustarsi il pallone e dal limite con un preciso caso a terra battere l'incolpevole Melgrati. Timida reazione dei ferroresi, c'era un tentativo di Dorazio servito da Antenucci, pallone sull'esterno della rete, poi occasionissima per lo stesso Dorazio, colpo di essere ravvicinato su cross di Mignanelli, molto attivo nel primo tempo a spingere sulla corsia Mancina, ma poi arrivava la terza rete per gli ospiti. Saporiti andava sul fondo, rimetteva verso il centro dell'area, risentera un pallone sul quale in scivolata arrivava Antoni che realizzava la rete che probabilmente ha chiuso definitivamente i conti, anche se al 47esimo, dopo un cross di Dorazio, pallone rimesso al centro da sinistra verso destra, a due passi dalla porta a Versaga d'Arao, arrivava la rete di Antenucci. Si andava così a riposo con la Lucchese in vantaggio 3-1, all'inizio della ripresa entrava Bassoli per l'arena alle prese con un programma di carattere muscolare, entrava anche El Caduri per uno spento Nador, poi arrivava anche il momento di Vido. Indubbiamente l'ingresso in campo, soprattutto dei due giocatori arrivati nelle ultime ore, ci riferiamo appunto al Caduri, dava una maggiore spinta alla spalla, dava una maggior fiducia, la spalla alzava il baricentro, d'altro canto la Lucchese, forte del doppio vantaggio, cercava di chiudere tutti i varchi e la spalla riusciva anche a portarsi ad un solo gol dagli avversari. era Antenucci, dopo un bel traversone dalla destra di Calapai, andare verso il primo palo, colpire di testa un pallone che andava a stamparsi sulla parte bassa della traversa, poi finiva in fondo la rete forse anche grazie alla deviazione del portiere Palmisani. Difficile dire se la deviazione con la schiena di Palmisani sia arrivata prima o dopo che il pallone avesse già varcato la linea di porta, comunque noi attribuiamo la rete ad Antenucci, se la merita più che mai, perché a prescindere dai due gol messi a segno oggi e anche in almeno altre due circostanze è andato vicino alla rete, bravo Palmisani al 34esimo, al 43esimo del secondo tempo a negare quello che sarebbe stato il gol di una clamorosa rimonta alla spalla e quello che sarebbe stato il gol che avrebbe consentito a Antenucci di festeggiare nel migliore dei modi i suoi 40 anni. Finiva invece con il successo per 3-2 della Lucchese, successo legittimo anche perché veniva annullata una rete a Costantino esattamente alla mezz'ora della ripresa per una posizione di fuorigioco abbastanza dubbia e a questo punto, come detto in apertura di servizio, in casa spalla si deve riflettere, si deve ragionare, soprattutto lo deve fare Dossena, pensando, secondo la nostra opinione, anche ad una modifica del modulo. Vorremmo vedere una spalla meno sbilanciata in avanti un Dossena che dalla sua avrà anche la possibilità di esputare l'arrivo degli ultimi giocatori pervenuti a Ferrara. Si è visto oggi con l'ingresso di B2I e il Caduni nel corso della ripresa che il contributo che questi, almeno questi due elementi, potrebbero dare sembra destinato a elevarsi importanti, molto importante, così come il recupero di calcio anche oggi assente ma che potrebbe rientrare sabato in occasione della trasferta sul campo del Sestilevante. Tutto questo naturalmente se ne parla lunedì sport che ricordiamo è visibile anche sul nostro canale YouTube. Chiudiamo qua il nostro TV giornale. Grazie di essere stati con noi. Arrivederci. Grazie a tutti.